Nelle suggestive acque dove si specchia l'incanto della Maddalena, tre vele olimpiche italiane si battono nel vento per conquistarsi l'onore di gareggiare alle Olimpiadi. Ricco di vento è il golfo e la gara si svolge veloce. Gli equipaggi manovrano con maestria, specie quando alla spinta di poppa possono innalzare il gonfio spinneco al posto del fiocco. Tra le isole Spargi e Budelli il timoniere Oberti ha visto la prua della sua Twin puntare vittoriosa alla meta. Tradizione e distinto sono alla base di tanta maestria marinara.